Finale al Cardiopalma nella terza frazione del Giro della Luingiana 2016. Ad allungare negli ultimi chilometri è il bravo Andrea Ferrari del Comitato Provinciale di Trento. Un'azione straordinaria destinata però ad esaurirsi a soli 300 metri dall'arrivo quando il russo Eugenio Casanova e lo sloveno Tadej Pogacar piombano su Andrea Ferrari. Nello sprint conclusivo è il russo Eugenio Casanova da avere la meglio su Tadej Pogacar, terzo il bravo Andrea Ferrari. Eugenio Casanova di Trento Eugenio Casanova di Trento